Cari amici ben trovati, la risposta creativa di ieri ci aveva portato in Vallagarina, oggi invece saliamo in Valle di Non, perché il corrispondente di Vita Trentina, Carlo Antonio Franche, ci segnala l'iniziativa messa in atta da Padre Giorgio, dalla parrocchia di San Zeno e dai frati che curano l'animazione del santuario di San Romedio. Pensieri e disegni che salgono fino al cielo, questo è il titolo della proposta alle famiglie delle loro parrocchie di realizzare dei disegni o degli scritti da mandare tramite posta elettronica, sono stati raccolti questi lavori e sono confluiti in un video, un video che poi è stato proposto e ha ottenuto circa 8 mila visualizzazioni, perché tutti questi testi e questi disegni sono stati collocati sulle scale che portano verso il piano superiore del santuario di San Romedio. Ed è bello pensare che il santuario, che un tempo era il luogo al quale i pellegrini affidavano le loro preoccupazioni o i fedeli si recavano per chiedere aiuto di fronte ad una epidemia o a qualche altra malattia contagiosa, anche oggi sia un luogo in cui ci si ritrova per pregare e per lanciare, magari da una scala, dei messaggi di luce e di speranza. Noi ci risentiamo domani.